buongiorno a tutti allora 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 partiamo subito con la magliettina del gigione della settimana con la frase della settimana date che lo mettiamo bene eccola qua certo qualcuno che mi segue da più tempo l'avrà sicuramente vista quelli nuovi non l'hanno mai vista poi è una bella frase è bella lunga una frasona bella lunga che ci piace detto questo ragazzoli dopo aver fatto il campionato spagnolo andiamo a vedere come è andato il campionato francese perché ci sono delle belle sorpresine ci sono delle belle sorpresine anche perché il gigione deve dire che devo dire che il campionato francese mi ha dato gioie l'ho giocato per i tre giorni che c'era da giocare venerdì sabato e domenica mi ha dato gioie gioie e cuori campionato inglese no campionato spagnolo alti e bassi ma partiamo con la prima che si è disputata venerdì vizza lille che è terminata 11 adesso non ricordo che ma mi sembra vi avessi detto rischiate l'ix più gol ma magari mi sbaglio avevo detto l'uno due è uscito il pareggio me le faccio al volo non sto lì a fare bao bao micio micio perché sapete che a meno che qualcuno non mi scriva gigi mai fatto perdere la bolletta eccetera chiedo scusa come sempre chiedo vigna come dico sempre ma se no non vado a rivedere per vedere cosa ho fatto cosa non ho fatto con i miei consigli eccetera eccetera comunque di salire 1 a 1 senza infamia senza lode risultato che mi piace anche se preferisco dai tre gol in su però quando segnano tutte e due che esce il gol già è un piacere anche 2 a 0 va bene però ripeto dall'over due e mezzo in su è sempre meglio come olimpi in marsiglia reims terminata 2 a 1 quindi il marsiglia inizia bene dopo la sconfitta in grecia 2 a 1 risultato che però in coppa non basterebbe perché col 2 a 1 va ai tempi supplementari una volta andavi a casa adesso col 2 a 1 sei perso una 0 in trasferta vai ai tempi supplementari e sono sempre un rischio proseguiamo con il paris saint germain che non va oltre uno squallido 0 a 0 con l'orient con la grama neymar che se ne vuole andare mbappé che sta facendo le bizze anche lui però pare che se va via neymar magari firmerà il contratto rinnoverà eccetera vabbè è una polveriera quella squadra lì è una polveriera non è una squadra di calcio è una polveriera piena di prime donne e come diceva bass pence in quel bel film che era lo chiamavano bulldozer in cui si parla di calcio americano ma tanto è sempre gioco di squadra è diceva che non sono solo le mele marcia a rovinare la squadra ma anche le prime donne e quando in una squadra è solo prime donne su cazzi scusate il francesismo sorpresona invece perché proseguono le sorpreggio del Brest batte signori miei i vice campioni di francia per un punto 3 a 2 partita altalenante partita incasinata l'ens che va subito sul 2 a 0 poi il Brest pareggia al 56esimo fine primo tempo assegna il primo gol e poi al 56esimo fa 2 a 2 poi thomasson pensa bene di farsi espellere per il lens all'87esimo ancora su calcio di rigore il Brest vince la partita quindi l'ens che inizia subito con anche lui il Paris Saint Germain pareggia in casa il Brest perde in trasferta sarà un segnale sarà solo un piccolo incidente di percorso poi Paris Saint Germain e l'ens giocheranno ancora lo scudetto come l'anno scorso con un magari olimpig marsiglia a fare da rompiscatole il più possibile oppure ci sarà una sorpresa una squadra che non ti aspetti vincerà lo scudetto l'inizio per queste due squadre non è stato sicuramente positivo anzi tutt'altro perché è vero che Lorient l'anno scorso ha fatto un campionato almeno metà campionato da libidine poi è crollato e quindi anche quest'anno ci si aspetta che magari faccia il Guastafesta ecco diciamo così squadra da conference non certo da Champions però l'anno scorso è rimasto in zona Champions almeno fino alla fine del girone di andata poi piano piano nel girone di ritorno è crollato il Tolosa prosegue con la sua positività chiamiamola così con il Nantes visto che l'anno scorso ci ha vinto la Coppa di Francia battendolo 5 a 1 ci ha vinto in campionato e vince ancora in campionato in rimonta tra l'altro perché se non erro è il Nantes a passare in vantaggio dopo 13 minuti su rigore ma poi proprio a metà secondo tempo poi al 91esimo minuto il Tolosa beffa nuovamente il Nantes e vince 2 a 1 e quindi attenzione che il Nantes non faccia ancora il campionato dello scorso anno con una sofferenza estrema fino alla fine per salvarsi il Monaco va a vincere 4 a 2 in casa del Clermont mentre Montpellier e Le Havre ne ho promosso Le Havre pareggiano 2 a 2 quindi Le Havre che inizia diciamo più che bene il campionato è vero che il Montpellier l'anno scorso non è che ha fatto chissà che campionato è arrivato però è arrivato comunque il dodicesimo giochi in casa contro una neopromossa ci si aspetta che vinca cosa che invece fa il Ren altra squadra come l'Usa Zunia per cui io provo un sentimento di amore e odio diciamo così il Ren mi sta più simpatico squadra che seguivo anni fa soprattutto nelle coppe squadra che mi piaceva perché era una squadra che segnava e si faceva segnare quindi quando giocava il Ren mettere gol non dico che ti piace vincere facile ma siamo lì il Ren batte 5 a 1 ne ho promosso Mets ritornato già in Ligue 1 però inizia molto in maniera traumatica il campionato con 5 pappine prese contro il Ren vediamo se addirittura eh diciamo che pronti via 1 a 0 1 a 1 e magari la battutina mister scusi ma è stato il pareggio immediato eh sì ma il pareggio immediato l'avete fatto voi appunto loro vincevano 1 a 0 noi abbiamo pareggiato ci sono incazzeti e ce ne erano rifilati altri 4 se magari non pareggiavamo finivamo solo 1 a 0 battuta riprendendo Lino Benfi e infine il resti Strasburgo altra sorpresa batte 2 a 1 se non erro anche qui in rimonta perché la stavo seguendo no assolutamente 2 a 0 e poi accorcia alle distanze il Lione con Tagliafico deve segnare il difensore più anziano della squadra perché se non ero Tagliafico c'ha una certa età andiamo subito a vedere per mia curiosità Tagliafico 92 a fine mese fa 31 anni quindi no è ancora nel pieno della maturità verso il tramonto ma non ancora 31 anni non sei ancora sul viale del tramonto è almeno altri 3 anni da giocare tranquillamente minimo ormai tendenzialmente le carriere dei calciatori finiscono intorno ai 35 36 37 anni poi c'è qualcuno che vuole arrivare a 40 41 se il fisico glielo consente comunque Lione che ragazzi miei l'anno scorso è stato fatto un campionato anonimo arrivando però è arrivato settimo il guaio è che avendo vinto ma anche se avesse vinto la coppa una delle prime sei e non il Tolosa che è arrivato tredicesimo il Lione in ogni caso non sarebbe andato in Europa perché ci sarebbe andato il Monaco col sesto posto e devo dire che quest'anno se il buongiorno si vede dal mattino che mi perdi contro il resti Strasburgo che l'anno scorso si è giocato alla salvezza fino alla fine definito quindicesimo mi sa che i tifosi del Lione ristanno leggermente preoccupati dico sta a vedere che anche quest'anno l'Europa non la vediamo e faremo un altro anno di cinema durante la settimana comunque ragasoli niente questi sono erano i risultati della prima giornata del campionato francese che ripeto ha dato gioie perché praticamente non c'è stato uno 0 a 0 no c'è quello del Paris Saint Germain che non ti aspetti ecco l'unico per il resto tutte partite che sono finite in gol e già lì fa libidine e praticamente tra le due otto partite sono andate in over 2 e mezzo minimo perché alcune sono andate anche in over 5 e mezzo come Ren Mez e Clermont Monaco che è finita 2 a 4 altre 1 a 2 2 a 2 3 a 1 3 a 2 scusate 2 a 1 1 a 1 2 a 1 se il buongiorno si vede dal mattino il campionato francese potrebbe darci delle belle gioie quest'anno per quanto riguarda le schedine del gigione attenzione vedremo la seconda giornata se confermeranno questo trend ma prima di dirvi la prossima giornata che partite ci saranno andiamo a vedere quanti gol sono stati fatti già vedo che siamo arrivati a 10 con le prime 4 partite poi si va a 13 19 23 29 32 gol posso dire una cosa doppia libidine doppia libidine non faccio coi fiocchi perché 32 non sono da fiocchi ma sono da doppia libidine quando si superano i 30 gol nelle 10 giornate nelle 10 gare della giornata di campionato già è una giornata da libidine doppia libidine doppia se si superano i 35 è da doppia libidine coi fiocchi se si superano i 40 è da doppia libidine coi fiocchi e contro fiocchi detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio vado a vedere come è andato il campionato inglese perché anche lì le sorpresucce non sono mancate o magari se non ce ne sono state la cosa che mi ha fatto girare i testi è che non è andato bene non mi ha chiappato ecco diciamo così il campionato francese è stato liquido spagnolo via di mezzo inglese comunque adesso vi faccio il video ciao ciao